Ciao, benvenuti in mio podcasting stagione 11 Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo Fate riferimento al blog Mia Fantascienza Mio Radar E Paleo Contatto Ciao Stagione 11, episodio 122 Della guerra in Ucraina 2022 Dunque, che cosa vi posso dire? È una bloggata, questa che è datata il 13 maggio 2022 Che è proveniente dal blog Mia Radar Dunque, che cosa vi posso dire in questo breve podcast? A distanza di quasi due mesi Quindi dalla data della bloggata del 13 maggio 2022 Che erano passati due mesi Quasi due mesi dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina E della guerra per procura tra USA, NATO, Unione Europea contro Russia Combattuta in Ucraina Si possono azzardare alcune ipotesi C'è il Covid-19 perché non è mai andato via Sinceramente, della guerra in Ucraina Nel 2022 è poco credibile che la Russia perde la guerra in Ucraina Anche se la Russia non è più una superpotenza Conserva la Russia un arsenale nucleare tattico e strategico Che è imponente Le guerre tra due stati che non hanno armi nucleari tattiche o strategiche Ecco, ahimè, le guerre si possono fare Le guerre tra due stati Di cui uno ha armi nucleari tattiche Le guerre, ecco, ahimè, si possono fare Ma chi non ha armi nucleari tattiche rischia grosso Le guerre tra due stati Le guerre tra due stati che hanno armi nucleari tattiche si possono fare Ma il rischio di avere danni incalcolabili In paesi belligeranti, ahimè, è elevato Le guerre tra due stati Di cui uno ha armi nucleari tattiche e strategiche Storicamente capitano Alcune sono andate bene ai paesi non dotati di armi nucleari Perché c'era il contesto bipolare della guerra fredda Corea, Vietnam, Afghanistan contro URSS Afghanistan contro Nato e Nels Iraq Altre sono andate male per i paesi non dotati di armi nucleari tattiche e strategiche Quindi la guerra israelo-arabiche Ex-Yugoslavia, Iran-Kuwait, Iraq e Libia Ma nel ventunesimo secolo Il contesto è diverso da quello del ventesimo secolo E quindi il rischio per il paese non dotato di armi nucleari È elevatissimo Le guerre tra due stati o coalizioni Che dispongono di armi nucleari tattiche e strategiche Ecco, non si potrebbero fare Nella guerra fredda i contendenti erano due E sono stati razionali La ferria politica delle sfere di influenza E della loro prossimità Evitò lo sconto diretto Guidando la Nato alla vittoria sul patto di Varsalia Nel ventunesimo secolo Il contesto è quello di un mondo multipolare Come quello degli stati nazionali E quindi le guerre a mio avviso si faranno nel ventunesimo secolo La bloggata continua con una serie di previsioni Entro il 31 dicembre 2022 Se siete interessati a queste cose ci potete dare un'occhiata Il link lo trovate in descrizione Ecco, la previsione più importante a mio avviso E' questa Ecco, sinceramente Putin Uno del KGB Non ce lo vedo a subire Il fatto che gli Stati Uniti L'Unione Europea La Nato Lo rapinino Sono dei 630-500 miliardi di dollari russi Depositati in banche occidentali Surgelate praticamente nelle sanzioni E interdette dall'utilizzo della Russia Quindi una rapina vera e propria Senza che la Russia non reagisca Ecco, sinceramente Putin Uno del KGB Non ce lo vedo a subire passivamente Il fatto che gli Stati Uniti L'Unione Europea E la Nato Lo rapinino Del 90% dell'Ucraina E che Putin Si dovrà accontentare Di tenere il Donbass E solo la Chimea Mentre gli Stati Uniti L'Unione Europea La Nato Si pappano il 90% dell'Ucraina Umiliandolo militarmente Ma sarebbe il concetto nel mondo Sovrappopolato Che è in scarsità Che tutti possono attaccare La comunità degli stati indipendenti Smembrandola A pezzi Invocando la bandiera della libertà Inventandosi un regime changing Quindi violando le sfere d'influenza Passerebbe il concetto in Asia Che si può mandare in vacca Appunto La sagge e prudente politica Delle sfere d'influenza La stessa politica Delle sfere d'influenza Che portò la pace Durante la guerra fredda Quanto la vittoria della Nato Sul patto di Versavia Passerebbe il concetto nel mondo Che la Russia è una tigre di carta Che la Russia non userà mai le sue armi nucleari Tattiche E strategiche E che forse nemmeno funzionano Tal che in Asia accadrebbe Che americani Giapponesi Ginesi Ginesi Indiani Pakistani Petola Arabi Un po' tutti nel mondo Inclusi i pacifici aborigini Della Australia Che nemmeno ci pensano All'anticamera del cervello Da andare a smembrare la CSI Ecco Tutti inizierebbero a infiltrare L'elite delle repubbiche Della comunità Delle stati indipendenti E poi comprandosi le elezioni Pseudo democratiche Causerebbero una disaggregazione E disassamento della CSI in Asia Quindi per questa ragione Io mi attento Che l'endgame finale in Ucraina Dovrà essere platialmente favorevole alla Russia Perché la Russia non può perdere questo conflitto E poi la bloggata qui Continua su come potrebbe essere Un ipositi di spartizione dell'Ucraina Ossia su quanto piccola Deve essere l'Ucraina Che riuscirà a staccarsi Dalle CSI per entrare in Europa Quanto piccola? Eccolo Molto piccola E qui se siete interessati Il link lo trovate in descrizione Per andare a espandere Poi io prevedo che Nel futuro I Se i repubblicani Vinceranno le elezioni di mid-term In novembre 2022 E' probabile che Forranno termini all'attacco Degli Stati Uniti Della Nato Della Unione Europea Alla Russia E probabilmente Zelensky Non avrà nemmeno più Un proiettile Per cui Putin Avrà gioco facile E la guerra in Ucraina Senza le munizioni Della Nato E in particolar modo Degli Stati Uniti E' probabile che si concluderà Entro giugno 2023 Poi c'è una serie di impatti Che io li prevedo Se si verificano Sotto certe condizioni E tra gli impatti Di lungo periodo Appunto C'è la possibilità Che quando i Teodem I Stati Uniti Torneranno al governo USA I Teodem Riattaccheranno La Russia Cercando di smembrare La CSA Quindi O ritorneranno All'assalto Del pezzo Dell'Ucraina Non liberata Oppure Attaccheranno Qualche altra Regione Della USA Con suffisso Stan Se siete interessati A queste cose Io Di questa bloggata Vi invito A cliccare Sul link Per questa puntata E' tutto Un saluto Ciao Alla prossima Alla prossima